La notizia arriva alle 11.30. Il premier Enrico Letta ha deciso di togliere le deleghe per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, alla neo-sottosegretaria Micaela Biancofiore, assegnandole invece quelle per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Uno stop repentino per mettere subito fine alle polemiche suscitate da questo incarico. L'assegnazione alle pari opportunità è suonata infatti come una provocazione, soprattutto da parte delle comunità gay e da sel, visto che Micaela Biancofiore si è sempre dichiarata contraria alle unioni omosessuali e che oggi su Repubblica ha nuovamente contrattaccato. Il problema non sono io, i gay si ghettizzano da soli e difendono interessi di parte e poi l'annuncio, faremo un DDL sulle unioni civili ma sulle nozze omosessuali nessuna retromarcia. Tanto basta per mettere in azione Palazzo Chigi che con questa decisione dà alla Biancofiore un'ultima chance perché è in pratica venuta meno alle regole di ingaggio fissate da Letta. Come dire che i sottosegretari come possono essere nominati possono anche essere revocati. Mentre dal PDL fanno sapere che il cambio di delega non avrà ripercussioni. Il Premier già ieri durante il giuramento un po' defilato dei 30 sottosegretari e dei 10 viceministri aveva scandito i suoi comandamenti, bandendo in particolare lo spirito di parte, soprattutto invocando la sobrietà nel comportamento e nell'uso delle parole. E dunque oggi passa dalle parole ai fatti. Almeno la decenza è salva il commento di Nichi Vendola. Ma il fuoco di fila è anche su Gianfranco Miccichè, Grande Sud, destinato ad affiancare alla funzione pubblica il ministro Dalia. Ci ha fatto perdere le elezioni in Sicilia, l'accusa a caldo di storace e ora la promozione. Ma il neo sottosegretario si giustifica. È la resurrezione, la devo a Berlusconi, Dell'Utri e a Raffaele Lombardo, una missione che suscita l'immediata indignazione del PD per bocca di Dario Ginefra, che chiede al Premier di rievocargli in incarico, perché la sua presenza, con il condizionamento di persone indagate o condannate per mafia, getterebbe fango sull'intero esecutivo. Polemiche accese, mentre da martedì si dovrà chiudere un'altra partita strategica, che è quella delle presidenze delle 28 commissioni di Camera e Senato. E anche in questo caso il Cavaliere si prepara ad un altro assalto. L'obiettivo è ora centrare le commissioni giustizia e infrastrutture telecomunicazioni. Una partita da giocarsi al Senato, visti i rapporti di forza più favorevoli che alla Camera, e che potrebbe essere terreno di scambio per favorire l'eventuale passo indietro di Berlusconi dalla candidatura alla presidenza della Convenzione. Il PDL vorrebbe puntare sull'ex guardasigilli Nitto Palma in Commissione Giustizia e su Paolo Romani alle telecomunicazioni, due nomi e due volti che di sicuro rappresenterebbero altrettanti baluardi a difesa degli interessi del Cavaliere.